L'amministrazione comunale di Teramo ha stilato il regolamento sui DEOR, atteso dagli operatori del settore ormai da tanti e tanti anni. Una serie di regole che saranno comunque condivise con le associazioni di categoria prima di essere approvate definitivamente. Una pace commerciale, assicura l'Aggiunta d'Alberto, che mira a snellire la burocrazia, che aumenta la grandezza degli spazi all'aperto e che impone uniformità nei colori e negli arredi. Come cambierà il decoro di questa città grazie a questo regolamento? Sicuramente ci sono delle novità molto importanti, emerse proprio ieri anche nella Commissione, grazie a dei punti che la minoranza ci ha chiesto di inserire. Quindi un'attrezzatura che sarà uguale per tutti. Adesso lavoriamo a questa idea, incontreremo le associazioni di categoria per capirne la fattibilità. Chiaramente daremo un tempo congruo di rientro e di ammortamento per le attrezzature già acquistate. Però sicuramente si va in quella direzione, che è una direzione che già tante città in Italia hanno intrapreso da anni. Proprio per questo motivo già se ne vedono i risultati in altre città, mentre a Teramo forse è un po' di confusione sotto questo aspetto. Sicuramente il decoro urbano migliorerà perché migliorerà l'attrezzatura, sarà omogenea, ci saranno delle luci che saranno uguali per tutti, intendo come calore, come né calde né fredde, magari delle luci adatte a un centro storico. E poi bisogna fare anche il discorso delle frazioni per capire se questo tipo di idea può essere applicata anche alle frazioni. Il nuovo regolamento sui DEOR a Teramo è un percorso che l'amministrazione comunale ha iniziato all'interno della Commissione Consigliare Urbanistica, presieduta da Francesca Di Timoteo, che ha impresso una forte accelerazione all'iter di stesura del documento. Lei in Commissione ha iniziato questo percorso, questo percorso di pace commerciale. Sì, ieri abbiamo fatto questa prima commissione, non abbiamo deliberato niente, è stato soltanto una illustrazione, un primo passo per andare in consiglio e presentare un regolamento sui DEOR che stanno aspettando da tanto i commercianti, un regolamento più condiviso possibile sia dalla parte della maggioranza che anche dell'opposizione. Questa città diventerà più bella così? Con questo regolamento penso proprio di sì, renderemo la nostra città ancora più bella.